Lampada direzionale a LED, lo studio tecnico è risolto ed è ben espresso in una soluzione formale e funzionale, concreta, semplici ed intuitiva. Bravo! La lampada è un po' il progetto vincitore, permette di avere una luce diretta sul tavolo nel momento in cui si vuole lavorare, ma anche cucinare nel momento in cui si prepara il cibo e poi con un semplice gesto cambiare completamente l'ambientazione e avere una luce in diretta. Questo è possibile solamente grazie alla tecnologia innanzitutto di oggi. C'è un trasformatore là in alto e poi questi due cavi d'acciaio, come vedete non c'è il cavo tradizionale. Perché? Perché tramite questi due cavi d'acciaio la corrente è condotta fino a questo anello senza del quale ovviamente la lampada non funziona. La corrente a basso voltaggio viene quindi trasmessa all'anello che è collegato internamente con la striscia di lato. Per cui questo si può fare un'infiltà di giri diciamo perché non è vincolata da nessun impedimento. Possiamo dire che lei anche quest'anno, che voi anche quest'anno avete individuato dei nuovi giovani designer realmente capaci di far strada? Io me lo auguro, sono sulla buona strada, me lo auguro che sia così.